L'anno scorso il Gran Premio non c'è stato, ora penso sia fantastico tornare a correre in Germania, essendo tedesco credo che per tutti i piloti tedeschi sia un privilegio poter correre nella nostra terra natale, di fronte ai nostri connazionali, non vedo l'ora, per me sarà la prima volta con la Ferrari, quindi penso che sarà una sensazione davvero speciale, Hockenheim è anche molto vicino alla mia città d'origine, per cui ci saranno molti amici e la mia famiglia sarà un Gran Premio molto speciale. Credo di conoscere il tracciato abbastanza bene perché ci ho gareggiato molte volte quando ero nelle categorie minori, mi è sempre piaciuto e speriamo di riuscire ad essere competitivi, credo sia un buon mix, c'è tutto quello che dovresti trovare su un circuito, lunghi rettilinei, brusche frenate e una tornante alla fine del rettilineo più lungo e poi arriva il motodrome che tutti conoscono, quindi c'è tutto ciò che un pilota può chiedere, un tracciato abbastanza tecnico, dove fare tutto bene è facile ed è abbastanza complicato trovare il giusto bilanciamento della vettura, dal momento che ci sono molte curve a velocità diverse, ma di certo è una pista divertente. Su questo tracciato ho corso con la Formula BMW e poi in Formula 3, in alcune gare ho avuto buoni risultati, in altre è andata meno bene, ma il ricordo più bello è sempre quando si finisce sul podio, possibilmente sul gradino più alto.